Questo spazio, abbiamo voluto ricevervi in questo spazio, è uno spazio tra l'altro nuovo anche per il MAS per cui era un'occasione, come vedete stiamo ancora un po' chiudendo il cantiere, però è uno spazio che in futuro vibra molto e si susseguiranno tutta una serie di iniziative, poi probabilmente avremo anche modo di vederci in un'inaugurazione ufficiale. Però ci piaceva l'idea di presentarvi questa grande opera, questo grande musical in uno spazio dove si lavora e questo è proprio esattamente lo spazio dove in questo ultimo mese e mezzo si è lavorato tanto per questo spettacolo. Ora io sarò brevissimo perché vorremmo anche farvi vedere qualcosa e poi presentarvi ovviamente il cast, voglio solo anticiparvi i primi quattro protagonisti di questo spettacolo che sono con noi insieme a tutto il resto del cast. Antonello Angiorillo che farà una parte di Ticchio, Simone Leonardi, Bernadette, Mirko Ranu, Adam, Maurizio Arena, Bob e ora man mano conoscerete anche gli altri. Avremo modo di parlarci subito dopo, nel frattempo passo la parola a Dean, il nostro director australiano. Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Ha appena detto che voleva presentarvi Valentina Gasparrino, che sono io, dice più importante di lui perché parlo per voi, ciò ovviamente non è vero. Thank you. We're very excited to be here representing Priscilla Queen of the Desert, the musical. This is our fourth major production of the show around the world, but our first foreign language production. When I heard we were coming to Italy to do our musical, I was a little wary. Italy, as everyone knows, is famed for opera, is famed for dance and is famed for acting. Dice, quando ha sentito che sarebbero venuti in Italia a fare Priscilla, era un po' preoccupato. L'Italia è famosa per la danza, per l'opera e per la recitazione. But not necessarily at the same time. Ma non tutte allo stesso momento. So we came here about two months ago, which was a month before rehearsal started, which is the quickest we've ever cast this show, the latest in the process in our lives. So I thought, what sort of people are we going to get that quickly in a country that's only been doing musicals for such a short time? Quindi erano preoccupati del fatto, si chiedeva, che tipo di cast riusciremo a mettere insieme in così poco tempo in un paese in cui il musical non è così affermato. But as it turned out, fate must have been smiling on us because the four leads and the cast we have are equals of any cast we've had around the world and the chemistry between the four leads is absolutely magical. Ma dice che poi il fatto deve avergli sorriso perché ciò che hanno trovato in realtà è stato un cast fantastico, i quattro principali e tutto il resto del cast hanno una chimica e un'alchimia tra di loro fantastica e lavorano benissimo insieme. Quindi invece di continuare a parlarne, vuole farveli vedere, vi presenteremo dei numeri, appunto i tratti dallo spettacolo che rappresentano un po' quello che è poi Priscilla, il musical. First up we're going to introduce the character of Bernadette, played by Simone. Quindi presentiamo il personaggio di Bernadette, Simone Deonardi. And meet her, Bernadette is a transsexual in the story, meet her on the day that her young boyfriend, Trompet, has passed away and the amazing drag funeral that ensues after this. So ladies and gentlemen, here's the cast of Priscilla with the first number we're showing you, thank you.